Ore 17. I picassi guonchiano ai semafori nel loro rumore sfondo da astronavi. I cicani smontano dalle impalcature sui picassi fradici. Alla fermata del 628 l'uomo di colore assedia ogni minuto l'orologio. Al 7-11 il senza testo stende il solito cartone e si accende una sigaretta. Ore 17.05. Io non fumo da vent'anni. Dietro ai vetri la margazza sbuffa tra lo smalto cotto e i gamberetti. Un chihuahua nella borsetta. Il capo sala forse è di origine italiana. Mentre sotto i palchi osbiadiscono il flamingo di plastica. Una madre in cucina rimessa il gin in fondo a una tocca. 17.20. Precipita una pioggia estiva. Dietro al verde la ruggina sul cancellio e niente più di sulle siede. Nelle pieghe di un divano un uomo gratso, quella birra in mano, che tutti corrono, d'intorno tutti sudati corrono, come lo avessero detto alla televisione. è il problema di color utile. Puoi per me! Aıyorc!